Signor Sindaco c'è un progetto particolare che state curando a livello comprensoriale su Montenero, di cosa si tratta? Si tratta della riqualificazione area Montenero per tutto il mondo dell'outdoor, dalla parte passeggiata, parte bicicletta, tutti gli sport che si possono fare in outdoor, una scoperta di tutta la flora e fauna del nostro entroterra, un progetto nel quale il Comune di Bordighera con Ospedaletti, Valle Bona e Seborga si vedono partner e soprattutto fortemente ci crediamo perché pensiamo che sia una possibilità importante di rilancio turistico, non solo per Bordighera perché se viene gente a Bordighera o Ospedaletti o Valle Bona e Seborga poi dopo girano e vanno anche nelle altre parti delle vicine. Addirittura un'idea ambiziosa di un collegamento con un nuovo via? Un nuovo via sì perché la problematica di collegamenti con il resto di Bordighera è difficile perché non si può proseguire la ciclabile, allora l'idea è quella di creare una nuova via che parte dalla fine della ciclabile Ospedaletti, porta in quota in Montenero, uno si fa tutto il suo percorso perché scende a Bordighera e prosegue la sua passeggiata o altrimenti torna indietro come meglio preferisce. So che avete anche parlato di un collegamento possibile via mare con Ospedaletti. Sicuramente via mare perché se uno avesse voglia in realtà di non andare in quota ma andare direttamente verso Bordighera, una navetta dal mare che parte dalla fine della ciclabile, arriva verso Bordighera, scopre un'area protetta che è un'area che abbiamo adesso vincolato perché c'è una presenza di coralli importantissima, una piccola escursione di 4-5 miglia al di fuori delle coste, può far vedere anche balene, delfini, tartarughe, perché comunque la nostra area rientra nel santuario di Pelagos, quindi diversificazione dell'offerta, maggiori interesse, si spera maggiori turisti. Di queste e di altre questioni relative Bordighera parleremo con il sindaco Palanca mercoledì sera nella nuova puntata di A Tutto Opponente in onda alle ore 21.